Il ritorno dell'umanità sulla Luna è più vicino grazie al successo del primo lancio della missione Artemis 1. Il razzo più potente mai costruito, Space Launch System, è decollato dal Kennedy Space Center in Florida, per ora senza equipaggio. È un volo di prova, ci è voluto molto tempo per arrivare qui. L'ultima volta che siamo stati sulla Luna era l'Apollo 17, abbiamo ancora molta strada da fare, questo è solo il volo di prova, ha detto il numero uno della NASA, Bill Nelson. Il razzo porta nello spazio l'astronave Orion, che in futuro sarà destinata all'equipaggio, grazie anche al fondamentale contributo italiano con il modulo di servizio europeo di tale Salenia Space e il CubeSat italiano Argomoon, realizzato da ArgoTec per l'Agenzia Spaziale Italiana. Lo schermo pieghevole è una delle ultime evoluzioni nel campo degli smartphone dal punto di vista dell'hardware. Per anni variavano principalmente per grandezza, numero di fotocamere e poco altro. Poi ecco il cellulare pieghevole, che permette di aumentare la grandezza dello schermo riducendo l'ingombro. Non sono sicuro che diventeranno mainstream, spiega Paul Lee, esperto IT di Deloitte. Penso che ci saranno 10 milioni di persone al mondo che davvero apprezzano il cellulare pieghevole, o che ne hanno uno pieghevole e uno normale. Ma pensare che siano una maggioranza i primi è improbabile, ma mai dire mai. Fra le motivazioni, il fatto che i pieghevoli siano sempre di fascia alta e quindi con un prezzo non accessibile a tutti. La start-up giapponese SkyDrive ha annunciato l'intenzione di mettere in commercio la sua prima macchina volante fra tre anni, in occasione dell'esposizione universale di Osaka nel 2025. Si tratta di un veicolo a decollo e aterraggio verticale, attualmente al vaglio del Ministero dei Trasporti giapponese per ottenere le certificazioni necessarie per essere messi in commercio. Negli anni scorsi sono stati già realizzati test di volo con equipaggio, con prototipi grandi all'incirca come due auto.